Ciao, mi chiamo Sara Elena Rusu, ho 20 anni e sono di Roma. Nella vita ho frequentato il Liceo Artistico e Cinematografico al Cine TV Roberto Rossellini. In seguito ho deciso di iscrivermi in un'accademia di recitazione chiamata Dam Academy, terminata nel 2024. Attualmente invece sto frequentando un corso di recitazione con professione artista. Una delle mie più grandi passioni nella vita è viaggiare e la scrittura, ovviamente anche il cinema e la recitazione. La scrittura mi permette di raccontare me stessa al 100%, molto spesso è più facile scrivere ciò che proviamo piuttosto che dirlo. Sono una ragazza determinata e nella vita ho l'obiettivo di diventare indipendente al 100% oltre di diventare un'attrice. Questi sono i miei profili. Grazie. Grazie. Grazie.